saluto a tutti fine ultimo dell'uomo è a mio parere non tanto la felicità in quanto attimo fuggente e violento bensì la serenità che può essere raggiunta solo mediante la conoscenza di sé del mondo della storia della natura insomma la conoscenza in genere in ogni suo aspetto la conoscenza è collegata alla curiosità delle cose ed è direttamente proporzionale all'intelligenza tutto questo presuppone la mancanza di pregiudizi e la libertà di discutere su tutto e di qualsiasi cosa infatti il verbo pregiudicare che al sostantivo pregiudizio si lega ha in sé un significato negativo di impedimento di divieto dicevo tutto questo presuppone anche soprattutto la libertà assoluta di pensiero e di parola soltanto disponendo la libertà di indagine intesa nel senso filosofico del termine e della discussione senza pregiudizi su qualsiasi tema ci si può avvicinare alla conoscenza per questo tante persone hanno dato la vita per garantire a tutti la libertà assoluta di pensiero e di parola dobbiamo purtroppo constatare che oggi queste libertà sono più illusioni peraltro falsamente dichiarate come fatto acquisito capisco la necessità di porre limiti precisi che debbono riguardare l'istigazione alla violenza al crimine all'odio fino a se stesso e via discorrendo ma è proprio anche con questa scusa insieme con quella sulle false notizie che si è sviluppata una censura tanto subdola quanto rigida ed anonima ci è concessa graziosamente la libertà di pensiero e parola fino a quando non si tocchino argomenti tabù con opinioni opinioni che non hanno nulla né di violento né di criminale né di rancoroso sulla rete stagalando se non è già calata una censura insopportabile e soffocante che riguarda appunto opinioni ho visto censurare pezzi che citavano fatti ed idee scomode mentre continuano impunemente ed allegramente a circolare truculenti fatti di sangue perversioni sessuali ed episodi criminali inauditi solo le idee e le riflessioni che al sistema non piacciono vengono censurate e le eminenze grigie che determinano i cosiddetti standard sono le stesse che berciano continuamente di libertà e democrazia ricordando magari censure e veline di tempi passati si emanano addirittura leggi che proibiscono di sostenere opinioni sulla storia per quanto risibili si tratta sempre comunque solo di opinioni su questa linea si distorcono fatti e si stravolgono i significati stessi delle parole prima della guerra del kippur nel 1973 tra egitto e israele l'allora presidente egiziano sadatta poi divenuto tanto caro all'occidente pubblicò un articolo molto duro contro lo stato di israele sul quotidiano ufficiale egiziano ala ram per chi desidera saperlo ala ram testata del giornale significa la piramide ebbene sadatta fu tacciato di antisemitismo dopo un uso del termine tanto a lungo distorto c'è qualcuno che si ricordi che anche gli arabi sono semiti come gli ebrei i babilonesi gli assili i fenici dunque abbiamo un esempio l'esempio di un sadatta masochista antisemita quindi anti se stesso ed il termine antisemita viene distorto sempre di più dopo essere stato monopolizzato da uno solo dei popoli semiti ora sta diventando antisemita anche chi è antisionista e vi sono tanti ebrei antisionisti e addirittura chi si permette di non condividere le politiche dello stato di israele chi tocca i fili muore l'ex presidente iraniano Ahmadinejad i cui discorsi venivano sempre definiti a priori farneticanti e aggettivi del genere in uno dei suoi discorsi sostenne che non si spiegava come mai l'occidente criticasse la mancanza di libertà e di pensiero di parola nel suo paese quando in certi paesi occidentali è vietato per legge esprimere opinioni che si discostino dalla storiografia ufficiale di certi periodi questo è un fatto incontrovertibile tanto delirante dunque almeno quel discorso di Ahmadinejad a me sembra che sia razionale e conseguenziale anche questa è una forma di censura la censura dell'insulto senza analisi né motivazioni ed esiste la censura dell'irridere o dello scandalizzarsi aggettivi come inaccettabile inqualificabile e così via apposti alle opinioni o i sorrisetti o i mavalà all'agedini senza spiegazioni dovrebbero liquidare le riflessioni e le opinioni insolite e scomode tu cur semplicemente senza un ragionamento senza un'argomentazione senza un contraddittorio ne sa qualcosa l'onorevole Lannutti che ha osato citare i protocolli dei savi di Sion oppure chi come me ha affermato che Kim Jong-un ha tutto il diritto di difendersi prima di fare la fine di Gaddafi Milosevic o Saddam Hussein e sono solo tre ne cito solo tre oppure chi riflette e dubita sulla vera natura dell'11 settembre e ne sa qualcosa anche Borghi responsabile finanze della Lega che si è permesso di esprimere l'opinione secondo cui se questa Europa non cambiasse dopo il voto di maggio l'Italia dovrebbe prendere in esame l'eventualità di uscire dall'euro ma discutiamone insomma no insurrezione generale dei corifei del sistema certe cose è vietato dirle di più è vietato pensarle dunque men che meno se ne può discutere è nato il ministero della verità di Orvegliana memoria il sistema stabilisce quale sia la verità di cui si può parlare nei settori sensibili tutto il resto è bandito vietato parlarne vietato pensare il contrario del confronto che l'intelligenza vorrebbe ma che la protege del potere comprime è lo stesso ministero della verità che censura con la scusa della lotta contro le notizie false quel ministero della verità che sulle bufale nell'informazione sulla menzogna e sulla censura cerca di mantenere ancora in piedi un sistema marcio che solo sulle falsità si regge come ampiamente dimostrato e dimostrabile eppure Voltaire aveva detto io non condivido il tuo pensiero ma sono disposto a dare la vita affinché tu lo possa esprimere ed ancora se tu vuoi conoscere chi detiene il vero potere devi trovare colui o coloro di cui ti è impedito di parlare il ministero della verità è segno di debolezza e paura serenità e conoscenza e quindi libertà vera di pensiero e parola sono per l'uomo come l'aria e l'acqua le becere gabbie del sistema saranno presto divelte e travolte intanto ogni spirito libero deve resistere con la sua testimonianza attiva serenamente grazie